oggi voglio vedere come stampare un oggetto che sembra semplice ma poi è difficile un ovetto un uovo principalmente per farvi vedere come riuscire a chiudere una superficie tonda quindi non lo chiamerò uovo ma lo chiamerò superficie tonda perché così lo associo subito però ho scaricato un uovo proprio perché ha la superficie tonda anche il prossimo tutorial lo utilizzerò ma per impostare un altro profilo che poi sarà un profilo che serve per stare in piedi l'oggetto anche se l'oggetto non ha una superficie piatta ho già fatto dei tutorial simili ma non lo abbiamo mai fatto impostando dei profili molto molto importante impostare dei profili vediamo ora il nostro uovo come fatto prima cosa da fare è creare il profilo lo ricordo sempre impostazioni profilo gestione dei profili vedete che la scorsa volta ho creato un profilo che poi si sdoppia in due cioè un profilo mobile piccolo e un profilo mobile grosso perché perché il riempimento cioè alcuni parametri dovevano variare vado sulla mia prova clicco su duplica lo chiamo 07 trattino chiusura parte tonda vuota può essere che io voglia creare il mio oggetto tipo un uovo per esempio lo voglia creare un po grosso ma non lo voglio far tutto pieno se magari pesa due chili quindi ora faccio chiusura parte tonda vuota perché è la cosa più difficile e la cosa più difficile è scaricare il peso su un oggetto simile perché se lo scarichi troppo rischi che verso l'alto non si chiuda ho fatto una bomboniera diciamo ho fatto una serie di bomboniere che sopra era tonda era un buddha e questa parte qua proprio non riuscivo a chiuderla perché perché il pezzo doveva non costare tantissimo e quindi dovevo risparmiare un po sul materiale ma porco cane sopra non riuscivo proprio a chiuderlo perché era bello tondo come un uovo ora vediamo quindi chiudo vado a selezionare il mio profilo e comincio subito ad impostarlo nel modo giusto ruoto l'oggetto perché voglio complicarmi la vita vediamo comunque la visualizzazione dello strato e vediamo la difficoltà che ci potrebbe essere nel stampare questo oggetto vuoto la difficoltà che c'è è che in questo istante qua precisamente il materiale comincia a crollare ed è impossibile farlo rimanere su diventa sempre più a sbalzo più inclinato o dentro metto dei supporti cosa che assolutamente non consiglio perché lo vogliamo ora fare quasi vuoto e scaricare molto i grammi la cosa che consiglio di fare è lavorare sul riempimento graduale riempimento graduale e poi la superficie superiore ed inferiore in questo caso superiore vediamo comunque tutti i parametri uno ad uno questo oggetto qua lo voglio stampare un po più grosso un po più grosso altezza 20 cm clicco invio diventa da 20 cm ovviamente ovviamente la cosa si fa più interessante perché l'oggetto deve essere scaricato ulteriormente di peso cioè non può pesare troppo quindi l'altezza del layer in questo caso visto che è un oggetto grosso utilizzo 0.2 per non perdere troppo tempo per rischiare che l'oggetto non qua non cada sarebbe meglio lavorare a 0.1 ma ci impiegherei una vita quindi lavoro a 0.2 lo strato iniziale lo voglio a 0.3 anche se in questo caso la cosa ottimale sarebbe lavorare a 0.2 perché perché più lo strato è grosso più il primo strato verrà schiacciato quindi lavoro a 0.2 in questo caso comunque il primo strato vedete che questo puntino se lavorassi a 0.3 questo puntino verrebbe accentuato ulteriormente se io stessi stampando un oggetto con un mini cut off cioè appena appena tagliato quel cut off lì si accentuerebbe quindi quando stampo cose che non appoggiano diciamo in modo piatto tendo sempre a tenere abbastanza bassa la qualità del mio strato iniziale ovviamente devo livellare bene il piano lo spessore delle pareti lo lascio a 0.8 ma lavoro sulla parete superiore la parete mia superiore la voglio molto più spessa molto più spessa perché è la parte che faticherà a chiudersi sto lavorando a 0.2 raddoppio l'altezza dello strato superiore la configurazione del riempimento la lascio sempre a linea e devo sempre verificare questo parametro qua questo parametro qua perché è molto molto importante se stampo prima il riempimento e poi le pareti probabilmente il tutto reggerà un po meno perché qua si stringe verso l'interno cioè se il mio oggetto si stringe e diciamo è conico verso l'alto io dovrò prima stampare le pareti esterne poi le pareti interne poi il riempimento fondamentale questa cosa qua cioè se io salvo e stampo così sono sicuro che il mio oggetto non si chiuderà comunque bene non si chiuderà bene perché soprattutto questi strati qua che adesso fatico a visualizzare eccoli qua cadranno soprattutto questo eccolo qua cadranno e non si chiuderà perché uscirà tutto sbavato e rimarrà un micro foro tanti micro fori ci ho passato veramente tante ore a risolvere questo problema ci ho buttato via mi ricordo tre o quattro giorni molto materiale per poi capire come fare a stamparlo correttamente quindi aumentiamo lo strato superiore fondamentale abbiamo detto che le pareti devono essere stampate prima quelle esterne quindi qua lui mi chiede vuoi stampare le pareti esterne prima di quelle interne selezionare subito andiamo poi a proseguiamo e ho impostato riempimento zero per farvi vedere che sopra era impossibile chiuderlo anche con un riempimento scarso per esempio io dico ma vabbè non riesco a chiuderlo vuoto mettiamo un riempimento basso non eccediamo col materiale quindi mettiamo un 5 per cento probabilmente probabilmente comunque in quel punto lì alto non ci sarà abbastanza materiale e qua ci sono degli spazi molto molto larghi vuoti probabilmente in questa parte qua cadrà cadrà perché anche se uso un riempimento sicuramente qua non c'è un riempimento su cui appoggiare di conseguenza cosa succede cosa succede devo lavorare sulle fasi di riempimento graduale e devo impostarle molto molto bene qua è importante è importante capire bene che fasi di riempimento utilizzare e a che percentuale lavorare questo oggetto qua io decido può pesare massimo 220-250 grammi non di più perché deve costare poco cioè non posso spendere tanto visto che il filamento appunto perché il filamento costa tanto ho lavorato con un'azienda o ho lavorato in alcune aziende in cui lavorano del materiale che costa poco l'altro giorno sono stato da un cliente che paga il ferro 1 euro al chilo noi paghiamo il materiale 18 euro al chilo capite anche perché bisogna stare attenti a come depositare il materiale utilizzerei una densità di riempimento almeno almeno del 15 per cento ma solo sulla fase alta e quindi imposto due fasi di riempimento graduale due fasi di riempimento graduale e un supporto a linee scusatemi il riempimento a linee c'è la configurazione di riempimento a linee perché in questo modo risparmio materiale interno il riempimento a linee prevede ci siano degli spazi fra una linea e l'altra cioè uno strato fa una linea una linea una linea e l'altro strato cioè quello dopo crea la linea ma in modo obliquo e speculare quindi fra una linea e un'altra linea vedete dove ho il mouse ci sarà un po di spazio vedete che il peso è diminuito di molto di molto è fondamentale se volete stampare l'oggetto il più vuoto possibile e ricordo è impossibile farlo vuoto il mio riempimento graduale ora verso l'alto sarà molto più fitto e quindi il mio oggetto si chiuderà molto meglio vedete qua sicuramente utilizzando uno stato superiore abbastanza spesso non crollerà posso ridurre ancora il mio riempimento perché abbiamo visto che tanto l'oggetto si chiuderà facilmente lo porto a 10 perché voglio scaricare totalmente l'oggetto ora sono 164 grammi da 220 se non sbaglio a 164 il tutto perché voglio ridurre il peso vediamo che mentre l'oggetto si chiude automaticamente crea un riempimento che aiuterà lo stato superiore a chiudersi abbiamo utilizzato la configurazione del riempimento a linea per ridurre il peso abbiamo messo una fase di riempimento graduale a 2 e abbiamo utilizzato un riempimento la fase graduale del riempimento è di 1,5 mm se non capite come funziona questo vuol dire che io stampo tutto al 10% e quando manca un millimetro e mezzo il mio supporto si infittisce una cosa molto importante prima di salvare il profilo e andare oltre ripeto per questo oggetto qua che è una chiusura di una parte tonda il più vuota possibile è deselezionare il riempimento prima delle pareti sempre prima le pareti perché le pareti essendo un oggetto che si chiude verso l'alto in modo conico diciamo reggerà molto meglio se invece è il contrario cioè che l'oggetto si apre ma non si chiude ma si apre bisogna fare il riempimento prima delle pareti importantissima questa cosa in pochi la considerano sono sicuro che in pochi la considerano come materiale anche qua se vogliamo chiudere bene l'oggetto dobbiamo diminuire la temperatura di stampa finale cosa che c'era già cosa che c'era già comunque badate che sia bassa la temperatura di stampa dello stato iniziale lasciatela sempre alta quella una temperatura di stampa normale vedete un po voi vedete un po voi perché perché tanto bisogna vedere come volete l'oggetto se lo volete lucido l'alzate molto se la volete opaca l'abbassate la portate a 200 il concetto è che la temperatura di stampa finale cioè dove chiude deve essere un po più bassa il diametro del filamento sempre 1.75 il flusso siccome questo qua è un oggetto che deve essere piuttosto bello ok io lo metto a 95 e abilito sempre la ritrazione ma questo giro la lascio a 7 non a 7.5 perché perché la mia distanza di ritrazione normale è 7 la velocità è 35 e siamo a posto vediamo il supporto il supporto per questo oggetto qua cioè per questo profilo che stiamo facendo non lo voglio analizzare lo vederò il profilo dopo c'è il corso dopo perché ora non è come far stare in piedi l'oggetto su una parte non liscia ma è chiudere correttamente una parte tonda e il più vuota possibile il supporto quindi lo tralasciamo e lo lascerei comunque in tutte le posizioni per sicurezza va sempre visto il supporto a seconda dell'oggetto l'adesione al piano di stampa non ci interessa adesso potete vedere sempre a seconda dell'oggetto che state stampando cosa vi serve in questo caso potete anche non usarla tanto è tutto il supporto e queste due le lasciamo perdere perché tanto ora non le voglio neanche vedere ora fatto questo abbiamo impostato i profili per chiudere bene la nostra parte superiore ricontrolliamo che l'oggetto si chiuda bene sempre 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 da controllare prima di salvare salite salite vedete che il nostro oggetto è il più vuoto possibile potremmo ancora scaricarlo potremmo ancora scaricarlo sì ma ho raggiunto un buon risultato pensavo di dover spendere 220 grammi di materiale invece l'ho portato a 156 molto 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 bene fatto questo clicco sulla stellina mi ero già creato il profilo prima aggiorno il profilo con la impostazione corrente sempre da fare una volta fatto questo chiudo ora posso tenerlo in memoria o se stavo realizzando il profilo per una stampa che stavo realizzando clicco su salva file inserisco la mia schedina e lo salva direttamente butto fuori la mia schedina e posso andare alla stampante questo video se ti è stato utile lascia un bel commento perché perché ci tengo molto che lasciate i commenti per capire se sto facendo un buon lavoro o no tanti mi stanno dando dei feedback positivi mi interessano un po meno like ma molti più commenti perché a me piace interagire con le persone alla prossima a 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